Musica Circa 7 anni N'è passato il tempo Tutti gli aspetti connessi con le problematiche relative allo sviluppo economico Il Master in Business Administration Una forte energia Ho avuto la possibilità intanto di misurarmi anche con persone Età diversa, con estrazione diversa Quanto possa essere importante utilizzare dei canali nuovi e sperimentare Musica È stato determinato perché richiedono oneri importanti per poter partecipare Essere stimolata all'interno proprio del vedatore di lavoro sicuramente mi ha aiutato Musica 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 Musica